buongiorno benvenuti all'appuntamento con l'informazione di telestense parliamo della scuola la scuola che lo sapete insomma ha ripreso dopo la pausa festiva alcuni banchi sono vuoti ma tutto sommato il sistema sta funzionando la testimonianza arriva anche dal dirigente scolastica del liceo Carducci di Ferrara che abbiamo sentito appunto per una testimonianza sul ritorno degli studenti in aula sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori il dato evidente è che è ripresa la scuola le parole sono quelle del ministro dell'istruzione patrizio bianchi che motiva la scelta del ritorno degli studenti in aula il prolungato e diffuso uso di una distanza aggiunge provoca problemi alla vita di una comunità e così mentre il tara ha sospeso l'ordinanza con la quale la regione campagna aveva disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da SARS-CoV-2 anche a Ferrara la didattica in presenza rappresenta una realtà una testimonianza ci arriva dal liceo Carducci di Ferrara dove la dirigente scolastica Lia Bazzanini evidenzia un rientro in classe con qualche attenzione in più ma senza particolari difficoltà noi siamo a scuola dal 7 in realtà nella nostra scuola di Bondino che il 7 e l'8 sono stati presenti qui a Ferrara solo il 7 perché il sabato non siamo a scuola e sono arrivate nei giorni precedenti numerose segnalazioni da parte delle famiglie che molto responsabilmente ci hanno segnalato gli eventuali casi di positività o anche solo di contatto sulla base di quello e delle disposizioni che sono uscite abbiamo seguito le indicazioni quindi con un caso positivo in classe la didattica ha proseguito in presenza con l'autosorveglianza e con le mascherine FFP2 in caso di due positivi invece bisogna distinguere fra i vaccinati o i guariti e i non vaccinati nel caso di tre positivi le classi sono in dato per dieci giorni e quindi la situazione è questa molto varia ci sono quindi alcune classi che sono a casa in dato ma molte altre classi in presenza stiamo cercando quindi di far funzionare la scuola e sta funzionando i ragazzi che sono a scuola naturalmente sono contenti di poterci essere abbiamo comunque comandato a tutti il rispetto delle norme quindi la reazione alle finestre aperte all'esterno facciamo la ricreazione l'intervallo tutto sta procedendo ora parliamo di qualità dell'aria perché giovedì 13 e venerdì 14 gennaio a Ferrara saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria stabilite dall'ordinanza del sindaco di Ferrara le misure sono attivate sulla base delle previsioni emesse da ARPA e che indicano per la città di Ferrara il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell'aria le previsioni vengono emesse lo dicevamo da ARPA e con un proprio bollettino ogni lunedì mercoledì venerdì sulla base appunto di uno specifico sistema nelle prossime due giornate quindi lo ripetiamo giovedì 13 e venerdì 14 gennaio nella fascia oraria dalle 8 e 30 alle 18 e 30 alle limitazioni della circolazione già previste da lunedì a venerdì nell'area del centro abitato di Ferrara per i veicoli più inquinanti si aggiungeranno quelle per i veicoli diesel euro 4 ora parliamo dell'SOS energia fondamentale conoscere le nuove regole in materia di tariffe di maggior tutela e rateizzazioni dice feder consumatori emilia romagna perché con i rincari del primo gennaio che hanno quasi raddoppiato in sei mesi i prezzi di gas e di energia elettrica si apre per le famiglie un periodo quanto mai pesante sul fronte dell'inflazione del costo della vita i cittadini hanno il diritto di non essere lasciati soli quando si parla di beni e servizi essenziali come il gas e l'energia elettrica in questo senso va anche la richiesta di interventi per scongiurare i distacchi avanzata con forza dalle associazioni dei consumatori dell'emilia romagna alla giunta della regione feder consumatori interviene sulla questione caro energia con richieste precise per evitare l'aggravarsi di crisi sociali come ad esempio prevedere a breve ulteriori stanziamenti e di intervenire contro le speculazioni nel frattempo accende anche i riflettori sui due provvedimenti del governo che forse a causa delle festività e della situazione pandemica secondo l'associazione dei consumatori sono stati scarsamente recepiti dall'opinione pubblica il primo riguarda la proroga di un ulteriore anno cioè fino al 31 dicembre 2023 dei contratti di maggiore tutela cioè con tariffe amministrate dall'autorità per l'energia come dimostrato dall'autorità stessa in questi anni le tariffe di maggior tutela hanno comunque calmerato un mercato che complessivamente spiega feder consumatori non offre effettivi vantaggi per le famiglie nel frattempo è importante informare i cittadini che ancora hanno contratti con tariffe di maggiore tutela che per il prossimo biennio continua feder consumatori non hanno nessun obbligo come invece molto spesso i venditori sostengono per spingerli a fermare un nuovo contratto di passare al mercato libero un prolungamento dice feder consumatori che dà la possibilità per chi ha contratti in scadenza a mercato libero di poter rientrare in quello di maggiore tutela il secondo provvedimento continua l'associazione di consumatori riguarda la rateizzazione delle bollette di gas e elettricità come chiarito dall'autorità per l'energia la rateizzazione non è automatica ma va richiesta dall'utente a fronte del mancato pagamento della bolletta nel periodo primo gennaio 30 aprile 2022 il gestore deve comunicare all'utente insieme al sollecito o alla costituzione in mora la possibilità di avvalersi della rateizzazione se quest'ultimo non aderisce esplicitamente la richiesta il gestore dà corso alle normali procedure che possono portare alla sospensione delle forniture che scattano anche in caso di mancato rispetto del piano rateale il piano di rateizzazione senza interessi prevede il pagamento del 50 per cento del debito con la prima rata con un numero massimo di rate possibili pari al numero di fatture che il gestore emetterà nei dieci mesi successivi in ogni caso le associazioni dei consumatori ricordano che gli utenti possono chiedere l'assistenza di un'associazione di tutela e sul caro energia arriva anche l'allarme di col diretti rincari rischiano di strozzare l'agricoltura e far volare i costi il balzo dei beni energetici si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi di produzione non compensati da prezzi di vendita adeguati e quanto emerge dall'analisi della col diretti il caro bollete colpisce sia le attività agricole ma anche la trasformazione la distribuzione e i trasporti per le operazioni culturali spiega col diretti gli agricoltori sono stati costretti ad affrontare l'incari dei prezzi fino al 50 per cento per il gasolio necessario per attività che comprendono le stirpatura la rullatura la semina e la concimazione inoltre continua col diretti l'impennata del costo del gas utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata cioè più 143 per cento non si sottraggono ai rincari anche i fertilizzanti a base di azoto fosforo e potassio che subiscono anch'essi una forte impennata più 60 per cento serve responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare conclude col diretti l'obiettivo è salvare aziende agricole e stalle aggiungono da col diretti parliamo di impresa una piattaforma telematica per la composizione negoziata delle crisi d'azienda è quella online appunto del camera di commercio se l'insuccesso è per motivi di mercato e non per condotte illecite all'imprenditore deve essere data la possibilità di riprovarci agendo per consentire la continuità aziendale spiega paolo govoni sentiamo costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l'intera procedura volontaria che ha lo scopo di recuperare riportare in bonus tutte le aziende da quelle commerciali a quelle agricole che seppure strutturalmente sane si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario è il sito composizione negoziata camcom.it piattaforma operativa dallo scorso 15 novembre e perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre la piattaforma gestita dalla camera di commercio è composta da due aree una pubblica di tipo informativo e l'altra riservata alle stanze formali che guidano passo dopo passo l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attive messe a punto dal ministero della giustizia per cercare di raggiungere se ne esistono le condizioni il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore se l'insuccesso è per motivi di mercato e non per condotte illecite all'imprenditore deve essere data la possibilità di riprovarci agendo preventivamente per consentire la continuità aziendale ha spiegato paolo govoni commissario straordinario della camera di commercio di ferrara oltre alla gestione della piattaforma la camera di commercio nominerà gli esperti chiamati a supportare gli imprenditori a ristrutturare le aziende e a redigere il piano di risanamento l'assegnazione dell'esperto è uno dei punti cardine per la riuscita del processo spiega lente camerale a lui è assegnato il compito di assistere l'imprenditore nel percorso di risanamento e a lui sta gran parte del successo della procedura sulla base delle competenze specifiche dell'esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento per questo motivo la camera di commercio ha formato dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno e ora il covid la situazione per quanto riguarda ferrara e provincia nell'ultimo bollettino cinque nuovi decessi vediamo millequattro sono i ferraresi deceduti in quasi due anni da inizio 2020 al 10 gennaio 2022 a causa delle complicazioni apportate dal coronavirus sul territorio estense nello stesso periodo sono decedute anche 52 persone residenti fuori provincia fuori regione anche una persona residente in polonia a questa triste soglia si è arrivati nell'ultimo bollettino in cui sono cinque i ferraresi deceduti a causa del coronavirus due donne residenti in città di 53 74 anni e tre uomini di 100 di bondeno e di poggio renatico di 64 68 82 anni la pressione ospedaliere in territorio estense continua a essere importante al sant'anna fortunatamente si registrano però più dimissioni che ricoveri in questa giornata 149 attualmente i posti occupati a cona mentre sono 121 in totale tra il delta e 100 ancora 20 le persone in terapia intensiva nel ferrarese nel bollettino si registrano 614 nuovi casi su più di mille tamponi 220 nuovi guariti intanto ricordiamo che da lunedì se si risulta negativi al tampone rapido si potrà chiudere la quarantena con un test in farmacia pur con qualche fisiologico intoppo da primo giorno ammette federfarma emilia romagna questa nuova fase è partita con grande afflusso da parte dei cittadini un carico sulle farmacie dicono da federfarma che è già molto consistente per la normale attività di screening il flusso dei tamponi seriali di quanti ancora non si sono vaccinati però il sistema sta reggendo aggiungono da federfarma nel frattempo l'aggiornamento del bollettino in emilia romagna registra un aumento della pressione ospedaliera 14 mila nuovi casi e più di 3500 nuovi guariti 35 i decessi a livello regionale capitolo vaccini nel ferrarese più di 3.700 le dosi somministrate lunedì che hanno portato a quasi 290 mila le prime dosi somministrate in territorio estense quasi 272 mila le seconde dosi e circa 148 mila e 500 le dosi addizionali somministrate naturalmente un bollettino che sarà aggiornato nelle prossime ore ora parliamo di una nuova collaborazione tra pubblico e privato per l'ampliamento del patrimonio verde di ferrara è quella che sarà sancita siglata tra l'amministrazione comunale acer e ferrara tua con una società privata grazie a una convenzione approvata dalla giunta municipale per la messa di mora di una serie di nuove piante nell'area verde a barco tra via del plebiscito via padova e via sirena di proprietà di acer ferrara e intanto in queste ore in questi giorni al via il cantiere esterno del palazzo municipale di ferrara lavori per oltre 2 milioni di euro al via il cantiere esterno per i lavori a palazzo municipale a ferrara materiali macchinari e strumenti sono in allestimento anche nel giardino delle duchesse i lavori previsti sono quantificati in circa 300 mila euro e riguardano il prospetto est del giardino e si aggiungono agli oltre 2 milioni e 100 mila euro per la riqualificazione post sisma del palazzo comunale si tratta di fondi legati alla ricostruzione successiva al terremoto del 2012 continuano gli interventi per riparare i danni prodotti dal terremoto i lavori consentiranno il recupero alla riqualificazione della casa dei ferraresi spiega il sindaco alan fabbri durante un sopralluogo gli operai prima di allestire il cantiere nel giardino hanno realizzato opere propedeutiche negli spazi interni di palazzo comunale la nuova prospettiva sull'area con le pareti di affaccio interno restaurate nei prospetti nord ed est sarà apprezzabile già da fine 2022 mentre i lavori interni al palazzo avranno uno sviluppo successivo la fase clou riguarderà i lavori strutturali nella porzione del palazzo che guarda piazza castello ora parliamo del museo archeologico nazionale di ferrara dove sono arrivate tre opere realizzate nel cinquecento da benvenuto tisi detto il garofalo definito il raffaello ferravese molto legato alla corte degli este opere provenienti da due grandi musei italiani la pinacoteca di brera a milano e la galleria borghese a roma operazione che rientra nell'iniziativa del ministero della cultura 100 opere tornano a casa per promuovere e valorizzare il patrimonio storico artistico e archeologico italiano conservato nei depositi dei luoghi d'arte statali un'occasione anche per parlare della futura sala dei tesori di palazzo costabile che sarà restaurata ma sentiamo il direttore del museo perché questa operazione è naturalmente così importante per la città di ferrara tante per noi perché segna la partecipazione del museo archeologico nazionale al progetto 100 opere tornano a casa che è un progetto voluto dal ministero della cultura proprio e previ che prevede il rientro diciamo nelle sedi di origine di una cospicua mole di opere provenienti da alcuni dei principali musei italiani il museo archeologico di ferrara partecipa con accogliendo delle opere del di benvenuto tisi del garofalo che è autore anche della di buona parte dell'apparato decorativo del palazzo costabile che ospita il museo e che quindi ospiteremo nella nostra sala del tesoro che è affrescata appunto da dal garofalo per un deposito della durata di dieci anni e quindi ci offre l'occasione per valorizzare non solo il contenuto importante archeologico del nostro museo ma anche il contenitore ovvero il palazzo rinascimentale che ci ospita e tutto il suo apparato decorativo a questo progetto che è un progetto come dicevo di livello nazionale partecipano come prestatori alcuni dei principali musei italiani quindi la la pinacoteca di brera ha fatto uscire dai propri depositi diverse opere tra cui una che viene anche al nostro museo così come pure la galleria borghese di roma istituto altrettanto altrettanto importante che ci ha concesso altre due opere del garofalo vedrete modificata trasformata la sala del tesoro con un nuovo allestimento che abbiamo già progettato che è già stato progettato e che realizzeremo a partire dalle prossime settimane entro la prossima primavera sicuramente avrete modo di vedere un allestimento completamente nuovo della sala del tesoro ora cambiamo totalmente argomento e parliamo delle elezioni presidenziali ma anche degli appelli a candidare ed eleggere una donna al Quirinale e frutto di una precisa analisi storica allo stesso tempo vuole essere una provocazione l'articolo che giorgia seroghetti ricercatrice in filosofia all'università di milano bicocca ha scritto ieri per il quotidiano domani diretto da stefano feltri nel titolo per la verità infelice che dice al Quirinale non serve una donna serve un nome l'articolo annuncia il tema affrontato dalla seroghetti che sostiene che non basta lanciare appelli per chiedere di eleggere una donna alla presidenza della repubblica senza fare nomi di possibili candidate l'appello generico rischia di essere aggiunge un esercizio retorico stancamente ripetitivo di quanto accade ormai ogni sette anni nelle elezioni a capo dello stato almeno nelle ultime nel nostro paese tutti o quasi ricorderanno la campagna popolare emma for president delle elezioni che nel 1999 portarono al perenale carlo azeglio ciampi fu quella l'occasione in cui i sondaggi di varie agenzie fecero capire che i cittadini avrebbero di gran lunga preferito lei donna della politica da sempre ad uno qualsiasi degli uomini candidati dai partiti ma il capo dello stato non l'elegue dei cittadini e spesso il nome che esce dalle urne a mondo cittorio a camere riunite è frutto di accordi talora lunghi e logoranti la storia ne racconta la genesi oggi seppure tutti i democratici di ogni schieramento riconoscono il gap di genere proprio della nostra politica tant'è che come dice la seroghetti nomi di donne esperte capaci leader nei loro campi professionali ce ne sono tanti tranne che in politica dove i nomi che oggi si fanno ad esempio come papabili per l'elezione a capo dello stato non vanno oltre la presidente del senato maria elisabetta alberti casellati la ministra della giustizia marta cartabbia la ex ministra della difesa roberta pinotti a queste si potrebbero aggiungere tranquillamente la ministra dell'università cristina messa rettrice fino al 2019 l'università bicocca di milano medico specializzato in medicina nucleare diversi periodi di studio negli stati uniti d'inghilterra delegata italiana miur del programma orison 2020 la stessa erica stefani nuovo ministero delle disabilità avvocato in politica dal 1999 già ministra per gli affari regionali e le autonomie ha fatto parte della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere hanno tutte un curriculum di tutto rispetto una carriera politica o scientifica o professionale di alto livello e poi di donne in parlamento ce ne sono 339 dati delle ultime elezioni politiche nessuna oltre quelle indicate potrebbe essere candidata i partiti tacciono ma sanno che nel paese ci sarebbe un grande consenso su una figura femminile di spicco aggiungo un altro nome linda laura sabadini direttrice istat ha guidato il women 20 nel 2021 è noto in tutti gli organismi internazionali per avere profondamente rinnovato il sistema delle statistiche sociali in italia e in europa introducendo criteri nuovi su donne povertà giovani conosce molto bene il paese e ha un carisma e una competenza ma anche una notorietà mondiale per i numerosi incarichi assunti nelle istituzioni di studi di statistica allora chiudiamo qua il nostro tv giornale per gli aggiornamenti vi rimando il sito la pagina facebook e il nostro canale youtube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.